E vedrete che se starete sempre con il vostro zio Tibia, avrete sempre un'eccitante serata di morte e di magro. E tanto per non perdere tempo, vi rallegro ancora di più proponendovi una divertente fantasia musicale. A base di quanto di più orribilante si possa mai vedere in questo mondo, azi sentire in questo mondo. A voi, il primo video del Festival Barra 1990. Bucchi e stanchi, ma nel cuore sereno, dopo tanti mesi di lavoro mi riposerò. Dietro quella porta le mie cose io li troverò. La mia lingua sentirò, perché dico capirò. Il primo video del Festival Barra 1990. Il primo video del Festival Barra 1990.